L'India rischia pesanti ripercussioni dall'Unione Europea se non gestirà bene la vicenda dei Maroi italiani. La fondo del capo della Commissione Europea Barroso da Bruxelles viene ripreso da Bari dal Ministro della Difesa Mauro. Prendendo spunto dal rinvio a Nuova Deli dell'udienza sulla giurisdizione dei due fucilieri ed in attesa della pronuncia della Corte Suprema, Mauro mostra tutta l'irritazione del governo italiano. E' bene quindi ha fatto questo tribunale a aspettare che si pronuncia la Corte Suprema sul ricorso presentato dal governo italiano. E' inaccettabile il fatto che due persone innocenti dopo due anni non conoscono ancora le accuse che gli vengono rivolte ed è per questo che l'Italia ha fatto ricorso ed è per questo che l'Italia chiede che i nostri fucilieri di Marina possano seguire stando a casa il proseguo dell'indagine. La diplomazia, aggiunge, si sta muovendo a 360 gradi a livello internazionale, poi interviene sulla grande opportunità di sviluppo per il Sud rappresentata dalla macro regione adriatica, un progetto esaminato nell'ambito del convegno tematico tra gli europarlamentari del Partito Popolare Europeo. Un'enorme occasione perché abbiamo tutta l'opportunità di avere maggiore prosperità perché perseguiamo con maggiore forza un risultato importante come la crescita e l'integrazione nel comune progetto dell'Unione Europea.